Ci troviamo all'Istituto Comprensivo Pirandello di Pesaro, un istituto che nelle scorse settimane ha vinto il primo premio a livello nazionale per un percorso di cittadinanza attiva molto particolare, quello di immaginarsi una città del futuro. Alla Pirandello si sono immaginati la Pesaro del 2032, una Pesaro tra dieci anni, se lo sono immaginati talmente bene da essere arrivati primi in questo concorso a livello nazionale. Un percorso effettuato a livello di tecnologia innovativa, quella molto particolare di un videogioco Minecraft applicato alla costruzione appunto della Pesaro 2032. Questo è un esempio di come possa essere utilizzato in maniera educata e utile anche per sviluppare il concetto di cittadinanza, l'uso delle nuove tecnologie, l'uso addirittura di un prodotto come Minecraft, Education, ai fini didattici attraversando in tutti i suoi valori l'oro blu, insomma l'acqua e con un discorso anche sulla sua storia, sulla letteratura, sull'arte collegata a questo elemento naturale e con la proiezione, la ricostruzione quindi tramite questi mattoncini digitali di una Pesaro proiettata nel 2032. Una parte che abbiamo, che hanno sviluppato i ragazzi riguarda il centro mare, poi c'è anche un riferimento alla zona del fiume Foglia, San Bartolo, hanno addirittura ricostruito una centrale idroelettrica per far capire le varie finalità, i vari riutilizzi dell'acqua. È una sorta di educazione all'uso consapevole di questo elemento con un percorso nella propria città proiettata in una smart city del futuro. Con Barbara Pezzolesi, referente del progetto, è stato il professore Andrea Della Martira che assieme a tanti altri docenti ha coordinato 31 alunni delle classi seconde e terze dell'anno scolastico 2021-2022 dando vita a un progetto che il 4 novembre è stato premiato negli studi di Cinecittà di Roma classificandosi primo su 200 elaborati che hanno preso parte al concorso nazionale educazione civica in Minecraft. Tutti noi pensavamo di arrivare tra i primi dieci, alla fine però ci hanno dato questa nuova sorpresa che è stupenda. Ognuno ha fatto una parte e insieme le abbiamo unite e anche grazie a quello l'impegno soprattutto, ognuno si faceva sia a casa sia a scuola soprattutto. È stato molto bello, soprattutto bisogna anche divertirsi per queste cose, se no non si fanno con voglia. È stata una bellissima esperienza anche perché ognuno ha fatto la sua parte e insieme siamo riusciti a creare un bel lavoro molto grande, molto dettagliato e quindi è stato molto bello arrivare in alto. Per me è un onore dirigere questo istituto che continuamente ci conferma la qualità dell'eccellenza del livello di istruzione che c'è in questo istituto anche con tutti i premi che i ragazzi vincono attraverso i progetti. Crediamo molto nella progettualità per ampliare la nostra offerta formativa. Quest'anno in particolar modo stiamo mettendo in campo altre iniziative importanti. Stiamo realizzando delle aule all'esterno con un progetto di educazione verde di EduGreen. Ed oggi nella palestra dell'istituto sono arrivati anche l'assessore alla crescita Camilla Murgi e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini a complimentarsi per lo splendido lavoro svolto che porta anche qualche ispirazione allo stesso comune di Pesero nell'immaginarsi la città tra dieci anni. È stato bello anche vedere come trasformare alcuni edifici sfitti o in disuso della città in opere che possano riparlare al territorio attraverso l'immaginazione dei ragazzi. Una Pesero del 2032, una Pesero più verde, una Pesero più azzurra legata all'acqua, alle nuove tecnologie, alla sostenibilità che ci indica anche che la strada che stiamo intraprendendo sia la strada giusta in linea con quello che i ragazzi vorrebbero per il proprio futuro. Grazie. Grazie. Grazie.